Ma, dottoressa, in quali casi potrebbe venire la candida? Chi può dirlo con certezza? Se metto l'intimo di pizzo? Le viene la candida. Se uso i jeans stretti? Le viene la candida. Se uso tessuti sintetici? Le viene la candida. Se mi faccio la ceretta? Le viene la candida. Sì! Le viene la candida. Ma insomma, dovrei andare in giro a dunque senza depilazione? Possibilmente. Grazie.